La WWE ha ufficializzato il suo primo premium live event in Francia. Sarà Backlash e si svolgerà sabato 4 maggio 2024 a Lione, alla LDLC Arena. Il giorno prima, nello stesso palazzetto, avrà luogo anche la puntata settimanale di SmackDown. Per chi vuole acquistare i biglietti per entrambi gli show, in maniera combinata, la federazione ha aperto le iscrizioni per ricevere comunicazione non appena le offerte saranno accessibili. Se siete interessati a partecipare, è altamente consigliabile compilare questo form. Qualora non lo facciate, beh, allora tenete d'occhio il sito dell'arena ospitante e ovviamente il web per non restare senza tagliando. A breve saranno disponibili su On Location, anche qui serve una registrazione, i Priority Pass, che permettono di acquistare in bundle sia gli accessi agli show che delle esperienze aggiuntive, come i Meet & Greet con gli atleti. Io vi lascio nella descrizione del video i link ad entrambi i servizi di cui vi ho parlato, così li avete a portata di mano.